Mauro Faticanti, coordinatore per il comparto della siderurgia all'interno di FIOM, la domanda in questo momento è più che mai attuale. Qual è dal vostro punto di vista, dal suo punto di vista, lo stato di salute del comparto siderurgico in Italia? Il comparto siderurgico è dentro indubbiamente la crisi di sovrapproduzione che c'è in tutta Europa. L'Italia non è fuori da questa crisi, possiamo dividere i due grandi mercati che sono il mercato del ciclo integrale da quello del forno elettrico, per cui abbiamo una situazione delicata sui cicli integrali in Italia, da un lato Ilva e Lucchini che è stata appena rilevata. Dall'alto abbiamo tutto il comparto dei forni elettrici che dà forse meno preoccupazioni da un punto di vista della tenuta proprio del sistema stesso, ma che tutte e due insieme, diciamo così, i nostri segnali non sono quelli di una ripresa esaltante, anche perché se non riparte l'edilizia è chiaro che il mercato dell'acciaio rischia di avere pochi sbocchi oggi. Diciamo l'incipit, l'ha dato lei, era abbastanza prevedibile, insomma i grandi casi al momento sul panorama italiano, purtroppo non gli unici, ma i due grandi casi sono ovviamente Piombino e Ilva. A che punto siamo? Allora, partiamo da quello più semplice che è Piombino. Piombino è stato raggiunto un accordo, c'è una nuova priorità che dovrà subentrare a giorni, dovrà firmare il rogito e l'acquisto di tutto il sito e ha una serie di impegni, fra cui per l'appunto l'installazione di un forno elettrico e una serie di programmi di espansione che ci fanno prevedere che il personale che attualmente è per metà lavoro, per metà in cassa, dovrebbe essere riassorbito nell'arco di due anni tutto. C'è una situazione molto delicata in Ilva, di cui la magistratura ieri ha disposto il sequestro senza utilizzo del AFO2, per cui è rimasto un solo alto forno e questo proverà molti problemi per riuscire a gestire l'impianto con un solo alto forno acceso. Stiamo monitorando la situazione che è in evolversi attuale e momentaneamente stiamo vedendo cosa succederà, perché è chiaro che se l'azienda ha detto che presenterà ricorso perché sta valutando quali sono gli estremi per cui si è verificato un gravissimo incidente, purtroppo concluso con la morte di un dipendente, anche con delle caratteristiche tecniche un po' strane, diciamo così, non consuete, che vanno analizzate tutte per trovare le soluzioni. È chiaro che è un punto di svolta molto delicato l'inserimento di forza lavoro all'interno di processi di riqualificazione o anche di diversificazione all'interno di poli industriali, diciamo, è un modello che in altri settori è già stato attuato. Diciamo che il caso di Piombino, quello che è il progetto che è stato quantomeno diffuso alla stampa da parte di Sevitalia, Ferpi ormai, sembra andare in questa direzione. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di Fiome, della sua esperienza personale, in Italia in questo tipo di attività di che cosa ci può essere bisogno? Io penso che noi dovremmo valutare bene come va l'esperienza di Piombino, perché per l'appunto è la prima volta che si rileva uno strumento di chirurgia e dei 2.200 lavoratori interessati, ben 700 andranno a fare un'altra cosa, che non sarà più colare acciaio, ma sarà l'agroindustria e sarà il polo logistico. Alle spalle di questa operazione ci dovrà essere un lavoro di formazione, ci dovrà essere un lavoro di relazione di mercato, ci dovrà essere un lavoro di nuove aziende che nascono, che consisteranno poi nello stesso sito, cioè sarà un'operazione io credo interessante, ma anche complicata, perché non sarà un'operazione semplice. Ecco, io credo che dovremmo guardare con molta attenzione a cosa succederà nel processo di diversificazione, che io credo sia anche necessario in alcune situazioni, non ci deve spaventare, mettiamola così, non ci deve spaventare, però dobbiamo guardare con molta attenzione come verrà gestito sia da parte di Aferpi, sia da parte del sindacato, sia da parte delle istituzioni, un processo che richiede l'intervento di tutti. Da parte di FIOM, se ci sono stati degli esiti positivi in quelle che sono state le vertenze che si sono aperte negli ultimi periodi, purtroppo sono state tante, in campo siderurgico? Ma insomma, se guardiamo l'Asta di Terni, l'Asta di Terni è un'avvertenza che si è chiusa a suo tempo con grande clamore, forse si poteva chiuderla prima e con meno clamore, ma insomma ha richiesto quel tipo di iniziativa che si è richiusa ad oggi in maniera positiva. Il tema che noi proponiamo e che proponiamo a tutti, per cui anche alle controparti, al governo, che è il grande assente di queste discussioni, è come noi gestiamo le fasi per non arrivare a processi di ristrutturazione così complicati, perché quando ci arriviamo in ogni caso è un problema per tutti. Poi riusciamo a uscirne bene, riusciamo a uscirne male, dipende da molti fattori. Per fare questo dovremmo fare un ragionamento complessivo sul sistema siderurgico e questo ragionamento la FIOM può dare il suo contributo, le imprese possono dare il suo contributo, ma certo il governo dovrebbe dare un contributo di politica industriale che oggi non c'è e questo è un problema per tutti, per la FIOM e credo anche per le imprese.